Musica Tegeno manca il numero legale, salta il consiglio comunale, apertura ai dissidenti. Auletta, frana strada statale 19 delle Calabria e la minoranza chiede un consiglio comunale per esentare i cittadini dalla IUC. Sala Consilina, continuano gli incontri con l'assessore Garofalo sul sistema nuovo di raccolta rifiuti. Montesano sulla Marcellana presso l'Istituto Tecnico per il Turismo Open Day con il convegno Il Turismo Sostenibile, prospettive ed opportunità. Calcio impegni interni per Valdiano e Sassano Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News in primo piano la politica. Ieri sera a Teggiano non si è svolto il consiglio comunale per assenza del numero legale. La maggioranza ha aperto al dibattito, al gruppo insieme per Teggiano, che provando così a ricucire lo strappo venutosi a creare nei mesi scorsi. È stato un consiglio comunale lampo quello tenutosi ieri sera a Teggiano. Doveva essere il giorno della rezza dei conti, invece la seduta è stata rinviata per assenza del numero legale. Scelta operata direttamente dalla maggioranza, guidata dal sindaco Rocco Cimino, che attraverso il documento letto dal capogruppo Vito Antonio Cobucci, ha manifestato questa volontà anche alla luce dell'assenza del capogruppo di minoranza Pietro Di Candia, assente per motivi di salute e primo firmatario della richiesta del consiglio comunale. Essendo un argomento cruciale per questa consigliatura e per il futuro del nostro paese, ha dichiarato Cobucci, debba vedere la presenza del consiglio tutto, anche in considerazione di quanto sta accadendo in queste ore degli incontri che stiamo avendo con i componenti del gruppo insieme per Teggiano, compagni di viaggio e componenti fondamentali del gruppo che ha portato alla vittoria nelle elezioni del 2014. Nel corso del documento è chiara l'apertura della maggioranza ai tre consiglieri, Babbino, Trezza e Marino, con Cobucci che ha ribadito come tutti abbiamo commesso degli errori, probabilmente dettati dall'esuberanza e condizionati dall'inesperienza, ma ha precisato mai legati alla mancanza di rispetto. Voi, sottolinea il capogruppo di maggioranza, eravate i nostri compagni di viaggio, con voi è necessario ripartire nell'interesse della comunità. Cobucci chiude il suo intervento, annunciando che, dalle ragioni espresse, il gruppo rinnoviamo di Ano farà mancare il numero legale. Si chiude così il consiglio comunale tegianese, alla quale erano presenti diversi cittadini desiderosi di capire quali fossero le sorti dell'amministrazione comunale. Il dato che tuttavia emerge è la chiara apertura al gruppo insieme per Teggiano, operato dalla maggioranza, che prova così a ricucire lo strappo venutosi a creare nei mesi scorsi. Tuttavia, il gruppo insieme per Teggiano ha negato l'esistenza di trattative e ha accusato il sindaco di sottrarsi ad un sano confronto politico e in aggiunta hanno dichiarato che non è chiara la strategia politica perseguita dal sindaco, visto che a distanza di sei mesi è cosciente di non avere più una maggioranza. E l'amministrazione comunale di Teggiano con in prima fila il sindaco Rocco Cimino incontrerà domani alle 18 presso il centro Pier Giorgio Frassati a Prado Perillo di Teggiano tutta la cittadinanza per un confronto. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della viabilità e della frana della strada statale 19 delle Calabrie. I consiglieri di minoranza del comune di Auletta, Cocozza, Caggiano e Gagliardi chiedono un consiglio straordinario, un consiglio comunale urgente per esentare i cittadini che vivono a ridosso della frana dal pagamento dei tributi. Con una richiesta protocollata nella giornata di ieri i consiglieri comunali di minoranza del comune di Auletta, Carmine Cocozza, Antonio Caggiano e Donato Gagliardi hanno richiesto la convocazione urgente del consiglio comunale. Oggetto dei richiedenti la proposta di modifica al regolamento comunale della IUC e in dettaglio i consiglieri di minoranza propongono l'introduzione dell'esenzione per tutti i proprietari di immobili fabbricati, terreni eccetera ubicati nei pressi del territorio comunale interessato dai disagi della frana verificatasi al chilometro 46.100 della strada statale 19 delle Calabrie. In particolare i tre consiglieri chiedono l'esenzione per tutti i tributi previsti dal regolamento IUC per i proprietari degli immobili da Contrada Ponte Nuovo a Contrada Ponte Colonna ai confini con Petina. Come si cita nella lettera protocollata e indirizzata al primo cittadino e per conoscenza al segretario comunale e agli altri consiglieri, si chiede la modifica dell'articolo 16, titolo secondo, la disciplina della componente IMU, la modifica dell'articolo 36, titolo terzo della disciplina della componente Tasi e la modifica dell'articolo 68, titolo quarto, la disciplina della componente Tari. Ricordando che tale esenzione sarà valida fino al termine dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada interessata dalla frana. La richiesta della minoranza consigliare dunque è dettata sicuramente dalla necessità di venire incontro ai cittadini che proprio a causa della frana da ben due anni si trovano a dover pagare tributi senza però avere un servizio efficiente sul territorio. Andiamo avanti. Ieri il processo d'appello, la sentenza sul caso termolovalorizzatore di Salerno a soluzione perché il fatto non sussiste per il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Con questo cadono anche i problemi legati alla legge Severino. Anni di pesante aggressione politica e mediatica per nulla. Questo il commento al caldo del governatore Campano. Assolto perché il fatto non sussiste. Con queste parole il giudice della corte d'appello di Salerno, Michelangelo Russo assolve il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca all'epoca dei fatti sindaco di Salerno Alberto Di Loreto e Domenico Barletta entrambi all'epoca dei fatti dipendenti comunali nel processo di appello sulla questione termovalorizzatore. Secondo l'accusa la nomina di Alberto Di Lorenzo a project manager del progetto per la realizzazione del termovalorizzatore sarebbe stata irregolare perché la figura del project manager non sarebbe contemplata dalla legge perché De Luca firmando un'ordinanza predisposta dal RUP Domenico Barletta avrebbe voluto agevolare il suo capo staff Di Lorenzo. La sentenza di assoluzione per De Luca ha un valore anche dal punto di vista politico caduta la condanna di abuso d'ufficio vengono meno tutti i presupposti della legge Severino che avevano scatenato tante polemiche e ricorsi all'indomani della vittoria alle elezioni regionali della scorsa primavera. Il presidente della regione Vincenzo De Luca ha scritto su Facebook questo messaggio dopo aver appreso dai legali la sentenza anni di pesante aggressione politica e mediatica per nulla anni di un calvario che avrebbe fatto scoppiare il cuore a chiunque ho retto, continua De Luca, per le profonde motivazioni ideali e morali e per l'assoluta serenità della mia coscienza esprimo il mio rispetto per la magistratura la cui autonomia è un bene per i cittadini onesti e non un privilegio di alcuni il controllo della legalità nei confronti di chiunque è deveroso in democrazia mi auguro, ha concluso il governatore, che nel dibattito pubblico si esaurisca la tendenza dilagante a calpestare con disinvoltura la dignità di persone e famiglie oltre le regole di uno Stato di diritto mi auguro, conclude, che si affermi l'abitudine a confrontarsi civilmente in un clima di rispetto reciproco l'essere uomini e più importanti delle bandiere di partito Rientriamo nel Baro Lidiano continuano gli incontri con l'assessore all'ambiente del Comune di Sala Consilina Vincenzo Garofalo per spiegare ai cittadini il nuovo sistema di raccolta differenziata attivo sul territorio comunale dalla fine dello scorso anno ai microfoni di Pietro Cusati le parole dell'assessore Garofalo La differenziata cambia e cresce io colgo l'occazione per ringraziare i cittadini di Sala che la stanno facendo in maniera buona, in maniera concreta, in maniera efficace abbiamo degli ottimi riscontri Questi incontri sono per metterci in condizione tale di poter correggere eventuali errori laddove ci sono per venire incontro alle esigenze dei cittadini per confrontarci con i cittadini però siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose Il vantaggio è l'ambiente perché più si differenzia più si rispetta l'ambiente Il vantaggio è economico perché chiaramente differenziando si spende di meno per il conferimento e spendendo di meno per il conferimento si ha una riduzione nella bolletta per l'Atari Cambiamo argomento questa mattina a Montesano era sensibilizzare i giovani verso la tutela e l'amore dell'ambiente e del proprio territorio considerandolo come una fonte importante di crescita e di sviluppo economico nonché personale ma anche l'obiettivo era quello di avvicinare le istituzioni ai giovani studenti per far sì che si possano considerare i giovani come un utile aiuto e una forza in più nelle scelte delle attività su cui investire e sulle modalità All'incontro di questa mattina all'Open Day era presente l'amministrazione comunale di Montesano rappresentata dall'assessore al turismo e all'istruzione Michele D'Alvano il vescovo della diogesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrini ma anche il presidente del GAL Vallo di Diano e Attilio Romano è presente anche tante altre istituzioni tra i quali Michele Caggiano sindaco di Pertosa ed esperto di politiche turistiche ascoltiamo ora le interviste realizzate questa mattina in occasione del convegno le attività che la scuola diciamo cura diciamo un pochino come promozione del territorio poiché è nostra convinzione quindi che la scuola deve promuovere e quindi e soprattutto in alcune occasioni proprio perché è un territorio neutro fare in modo che si possa costituire la rete reale vera tra le persone che insistono nello stesso anche significative e rappresentative per offrire è stato pensato per offrire un'occasione di riflessione su quelle che sono le tematiche relative al turismo perché considerata la nostra secondaria di secondo grado una scuola diciamo con indirizzo turistico possa in un certo qual modo offrire alle famiglie perché il nostro incontro era diretto alle famiglie e agli studenti una sorta diciamo di opportunità di una visione concreta di rete condivista tra istituzioni tra cui appunto la scuola diventa la promotrice per far conoscere anche agli studenti quali sono le occasioni del nostro territorio Diciamo che il territorio permette di avere il turismo e quale scuola più di questa deve essere salvaguardata ma dico pure altro non solo questo istituto deve essere salvaguardato ma anche gli altri istituti del Vallo di Diano perché insieme si possono fare tante cose unirci è importante perché non far uscire fuori i ragazzi dal Vallo di Diano gli istituti che hanno le altre parti li abbiamo anche nel nostro territorio del Vallo di Diano quindi è importante farle rimanere perché il lavoro c'è e chi vuole lavorare ha ottime opportunità con questi istituti Ci invita a guardare l'ambiente come la casa comune indipendentemente da interessi culturali, appartenenze politiche e religiose questo pianeta è la casa comune che dobbiamo assolutamente salvaguardare, proteggere e custodire Parlando poi del nostro contesto territoriale noi possiamo riscoprire la vocazione di questo territorio a partire da una politica che mette in luce le risorse, le opportunità e contagiare i nostri giovani di questa passione per il nostro ambiente e il nostro territorio ricavandone risorse economiche, prospettive occupazionali e soprattutto qualità di vita Io sono molto contento e orgoglioso soprattutto oggi di essere qui ma soprattutto orgoglioso del nostro istituto con un corpo di docenti straordinari, una preside, la professoressa Cantillo che veramente ha un grande dinamismo ma ha grandi capacità anche di coinvolgimento e questo è importante, è importante perché dobbiamo trasmettere effettivamente ai giovani il senso proprio dell'appartenenza al territorio e il senso di ciò che noi vogliamo fare Io penso che il parco può dare tantissimo I giovani protagonisti perché con loro dobbiamo pianificare quelle che sono le misure che poi ci devono consentire di creare un turismo sostenibile e compatibile con il nostro territorio La vera grande sfida io infatti la voglio lanciare proprio con i giovani con il corpo docente del nostro istituto per il turismo qui a Mondesano che è l'unico istituto all'interno del parco e io penso veramente per i giovani ci possono essere tante prospettive e tante possibilità concrete L'iniziativa che fa l'istituto tecnico per il turismo di Montesano, la dirigente Cantillo che ci vede naturalmente coinvolti, impegnati ma ovviamente l'obiettivo di tutti è quello di riempire le parole di amore, di affetto, di solidarietà che sono appartenenti a questa terra e la dobbiamo riempire di contenuti questo è il nostro nuovo lavoro che appartiene alla Galla, a partire alla comunità montana a partire da tutti i comuni del Vallo di Diana Andiamo avanti, ritorniamo a Salerno dove ieri mattina è stata firmata l'ordinanza di dissequestro del Crescent da lunedì ripartiranno i lavori E' stata firmata l'ordinanza di dissequestro del Crescent in calce al provvedimento la firma del Presidente del Collegio della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Salerno Ora i carabinieri provvederanno alla rimozione dei sigilli e alla contestuale restituzione del bene nelle mani della società titolare dell'appalto che già lunedì mattina rimetterà in moto le gru per andare alla conclusione celere dei lavori Tutto questo all'indomani dell'udienza sulle autorizzazioni per la realizzazione di Piazza di Libertà e Crescent che ad avviso della Procura sarebbero state chieste ad un ente diverso da quello deputato a decidere Su questa tesi si è incentrata l'udienza del processo a carico di Vincenzo De Luca e di altre 21 persone chiamate a rispondere a vario titolo di falso in atto pubblico, lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio Per sostenere questa tesi, i PM Rocco Alfano e Guglielmo Valente nella quattordicesima udienza celebrata dinanzi ai giudici Siani Presidenti Allatre, Trivelli e Cantillo hanno citato a testimoniare l'ex direttore amministrativo della direzione del Ministero dei Beni Culturali Carlo Guardascione l'ex direttore del settore ragioneria del Comune di Salerno e la funzionaria della ex direzione regionale della sovrintendenza di Salerno Assunta Panzera Il nodo da sciogliere riguarda la competenza sulla valutazione del piano paesaggistico relativo alle opere da realizzare e le testimonianze raccolte non avrebbero fino ad oggi sciolto il dubbio Secondo la legge, fino al 2009 le valutazioni non rientravano tra le competenze dei livelli regionali e non è accertato che il plico sia stato trasmesso alla direzione centrale del MIBAC Ma il processo penale, come detto, non ostacola l'Ital per il completamento del Crescent Due binari paralleli che a questo punto, dopo il dissequestro del cantiere e la ripresa dei lavori in programma già nella giornata di lunedì, non potranno mai più incrociarsi al massimo condizionarsi reciprocamente Cambiamo decisamente argomento, ci avviciniamo al carnevale e si parla molto di dolci e prodotti tipici Il maestro pasticcere Giuseppe Manilia è stato protagonista della trasmissione Hit Parade su Rai 2 illustrando la preparazione e i dolci tipici della tradizione ma anche proponendo una novità che propone proprio la sua pasticceria l'Orchidea di Montesano sulla Marcellana Domani, in molte piazze del Valo di Diano, si celebrerà il Carnevale 2016 con tante sfilate e carri allegorici tanto divertimento non solo per i più piccoli ma anche per i più grandi A Carnevale però è d'abitudine preparare dolci tipici Il maestro pasticcere Giuseppe Manilia della pasticceria l'Orchidea di Montesano sulla Marcellana è stato protagonista nella giornata di ieri della trasmissione Hit Parade in onda su Rai 2 in cui ha illustrato i dolci tipici del Carnevale valdianese Il maestro ha sottolineato come il fritto va sempre di moda in questo giorno e ha messo in evidenza la preparazione dei tortelli una pasta bignè che viene fritta e poi farcita con crema pasticcera e che ha una sua variante atipica infatti nella preparazione della pasta bignè può essere tolta l'acqua e sostituita con il marsala e alla fine dell'impasto aggiunti pezzi di mela e uvetta che rendono un impasto sempre più morbido e dopo la frittura questi viene inzuppato in una crema fatta al vino ma la novità proposta dal maestro Manilia è la pasta inzuppata prendendo spunto dal babà, il dolce ha le stesse caratteristiche del babà nell'impasto ma la sua particolarità è l'essere inzuppata in uno sciroppo a Gran Marnier poi vengono messi nel congelatore per un quarto d'ora e infine glassati con una glassa alla frutta tante le varietà proposte dal maestro pasticcere che ancora una volta ha portato la pasticceria all'orchidea e tutto il valo di diaron sugli schermi di una rete nazionale Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News ripartiamo da Polla dove un concorso per riqualificare il lungo fiume Tanago è stato indetto dal comune si tratta di un importante provvedimento dichiarato dal primo cittadino Rocco Giuliano che fa seguito ad un impegno contenuto nel nostro programma elettorale Il comune di Polla guidato dal sindaco Rocco Giuliano ha indetto un nuovo concorso di idee destinato alla riqualificazione del lungo fiume Tanago Il concorso aperto di schitetti ed ingegneri che dovranno produrre un'idea progettuale entro il limite massimo stabilito dal bando prevede un premio di 1.500 euro per il primo classificato di 1.000 euro per il secondo e di 500 euro per il terzo classificato Inoltre la realizzazione sarà inserita nella prossima programmazione annuale e, come recita il comunicato, avverrà attraverso il ricorso a forme ordinarie di finanziamento pubblico oltre che a finanziamenti regionali e comunitari Il vincitore del concorso potrà essere anche l'affidatario del progetto definitivo ed esecutivo delle opere previa procedura negoziata con l'ente che dimostri anche di avere i requisiti minimi in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare L'obiettivo è coinvolgere i giovani professionisti locali e dare loro la possibilità di essere protagonisti diretti dello sviluppo socioculturale della collettività a cui appartengono Si tratta di un importante provvedimento ha dichiarato il primo cittadino di Polla, Rocco Giuliano un provvedimento che fa seguito ad un impegno contenuto nel nostro programma elettorale e che ora vede il suo primo concreto passo per la sua attuazione Ieri sera, Sala Consilina, terzo appuntamento con la ventesima edizione della Rassegna Teatro in Sala evento organizzato dall'Associazione Ragazzi di San Rocco con il contributo della Banca Montepruno e del patrocinio del Comune in scena la compagnia teatrale Il Dialogo di Cimitile che ha messo appunto in scena lo spettacolo Non ti pago di Edoardo De Filippo con la regia di Ciro Ruoppo a seguire la serata per noi c'era Pietro Cusati che ha raccolto le parole di organizzatori e protagonisti Questa sera partecipano alla compagnia teatrale Il Dialogo di Cimitile con quale commedia? Non ti pago di Edoardo Un classico? È un classico sicuramente Noi stiamo cercando di rivisitare un po' le commedie di Edoardo Abbiamo fatto prima Filomena e Marturano In tempi molto remoti abbiamo fatto ancora Non ti pago Napoli milionaria Adesso stiamo facendo Non ti pago La stiamo riportando un po' in auge Anche perché l'anno scorso erano 30 anni dalla sua morte E noi abbiamo voluto proprio omaggiare Riportare questo lavoro un po' dimenticato perché ha una sua valenza particolare E vedrete che durante lo spettacolo ci sarà proprio un appello fatto dallo stesso autore Edoardo Edoardo al suo pubblico insomma Maggiori compagnie si potessero realizzare maggiori interventi Quindi non posso che essere contenta come ragazzi di San Rocco Dopo la prima serata che è avuto un gran successo Quella di stasera Una storica Sì, Edoardo comunque è una commedia storica Una commedia che molti conoscono Quindi possiamo trascorrere sicuramente una serata lieta Ma più che altro perché questa è una compagnia Come la compagnia precedente Che è molto vicina al professionismo Proprio perché svolgono all'esterno Voglio dire più di 100 rappresentazioni all'anno Quindi significa non essere soltanto ammatoriali Ma proprio dedicarsi Non dico anima e corpo Ma molto vicino a questo Quindi mi aspetto una grande performance Ed ora lo sport domani Impegni casalinghi per il Valdiano e il Sassano Contro rispettivamente Montesarchio e Salernum Si cercano punti importanti in ottica salvezza Cancellare i passi falsi sette giorni fa E macinare punti salvezza davanti al proprio pubblico Può sitenizzarsi in questo modo L'obiettivo comune di Valdiano e Sassano Ognuna nel rispettivo campionato di competenze È portato a dare una prova di orgoglio Uno scatto emotivo E anche in termini di risultati Per muovere la classifica E provare a lottare per la permanenza in categoria Il Valdiano della coppia Morea-Sarli Se la dovrà vedere davanti al proprio pubblico Contro il Montesarchio Squadra forte e ben attrezzata Che ha nella coppia offensiva Befi Riccardi Le due punte di un iceberg davvero molto competitivo Che ha saputo impressionare Nella prima parte della stagione Il Valdiano cercherà di affidarsi Al fattore Vertucci Per imbrigliare gli avversari Con i quali ci sta un conto aperto All'andata è stato un cappotto pesante Per i Blaugrana Che tra le motivazioni avrà anche anno Un motivo di divalsa Per quanto riguarda il Sassano Si riparte dalla gara casalinga Contro il Salernum Squadra che a sua volta Aveva iniziato bene la stagione Ma con il passare delle settimane Ha avuto un'alternanza dei risultati Vincere è l'imperativo per Riccio e Soci Che giocheranno sul sintetico di Sant'Arsenio Che ha portato tanta fortuna 15 giorni fa Nel match casalingo Vinto in rimonta contro il Canna Longa Con lo sport si conclude L'edizione pomeridiana delle Uno News Io vi ringrazio per l'attenzione E vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti